Musica E benvenuti a un nuovo episodio di One Piece Pirate Warriors 4 Siamo ancora a Dressrosa Una valorosa apparizione, Sabo comandante dell'armata rivoluzionaria Sabo combatte per il conto suo di suo fratello Rufy Per ottenere il frutto fuoco a fuoco che una volta apparteneva a Dress Ma le cose non vanno come previsto Rufy che sotta Colossium, non è un problema Ma anche una guerra che si è iniziata Rebecca e Cavendish che si è iniziata a D-Block È un'esempio di vista di un'esempio di vista Cavendish che si è iniziata a dormire Sassurrata di un'esempio di un'esempio di un'esempio di Hakuva Hakuva si è iniziata a rivoluzione Rebecca e il giro di un'esempio di un'esempio di Hakuva Rebecca e il giro di un'esempio di Hakuva E la fine di un'esempio di un'esempio di Hakuva Pluso che si tr Geezda C Avendish che si èiffer Rebecca e il giro di un'esempio di hai Buon appetito! Grazie a tutti. 彼の正体は元ドレスローザ軍隊長キュロス、レベッカの実の父親であった。 ウソップたちから連絡を受けたルフィは、この国で起きていた悲劇の善意を、そしておもちゃの兵隊の正体を知る。 その頃、決勝戦が行われているコロシアムは、おもちゃが突如人間に戻ったために大混乱に陥っていた。 さぼ! さぼ! それがどうやら、この国のからくりだったようだな、レベッカ。 さぼ! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti